Ecco come ho riprodotto le rasbore in acquario. Avevo delle rasbore che cominciavano a fare dei riti di corteggiamento come potete vedere, sono tutti movimenti che fanno per la riproduzione. Mi sono ritrovato sul fondo delle uova che si sono schiuse. Ecco le uova di avanotti con dei piccolissimi avanotti che sono facili prede degli adulti. Cosa ho fatto? Ho recuperato gli avanotti e li ho messi all'interno di una nursery con altri scalari, comunque piccoli, quindi senza problemi di predazione. Messi in protezione, ho nutrito questi piccoli con aupli di artemia salina e poi ho imbricato il tutto piano piano dopo una ventina di giorni con del cibo secco e poi con del cibo decongelato. A differenza di altri questi avanotti crescono veramente velocemente. Vi faccio vedere già a 30 giorni, sono già abbastanza grandicelli, ma non ancora adulti. A circa 4 mesi diventano invece proprio adulti. Ecco qui degli splendidi esemplari nati nel mio acquario. Che soddisfazione!